Una modifica per alzare l'asticella della prevenzione nel campo della lotta alla ludopatia e al gioco d'azzardo, patologia sempre più diffusa e figlia anche della perdurante crisi che induce migliaia di persone a tentare la fortuna finendo però nel vortice del gioco compulsivo. Ed è così che l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza 15 voti favorevoli e 3 astenuti, Movimento 5 Stelle e FI. La proposta di modifica della legge regionale, norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, d'iniziativa della consigliera del PD, Carla Casciari. La proposta di legge intende fornire alle amministrazioni locali ulteriori strumenti per fronteggiare con tempestività e certezza i rischi provenienti dal proliferare, anche sul territorio regionale, di luoghi dediti ad attività riconducibili al gioco d'azzardo, mirando a introdurre l'equiparazione tra le sale da gioco e le sale scommesse, sottoponendo anche queste ultime ai limiti previsti relativamente alla distanza da punti sensibili come scuole, centri di aggregazione giovanili e luoghi di culto. La proposta prevede analogamente il coinvolgimento dei gestori delle sale scommesse nei percorsi di formazione obbligatoria per le sale da gioco e introduce la diffusione di materiale informativo sul rischio del gioco patologico anche nelle sale scommesse. Inoltre, a seguito di un emendamento proposto dal consigliere Smacchi, già nei lavori della commissione competente, è stato introdotto un articolo che prevede la possibilità per i comuni, al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, di disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite apparecchi elettronici all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse e degli esercizi pubblici e commerciali nei momenti di massimo afflusso. È stato anche approvato un ordine del giorno su proposta del capogruppo del PD Gianfranco Chiacchiaroni, integrato dal contributo proveniente da altro ordine del giorno firmato da Raffaele Nevi di Forza Italia, che impegna la giunta regionale ai fini di una compiuta attuazione del disegno di legge ad un'azione di forte sensibilizzazione politica verso il governo, tesa a realizzare una chiara e netta direttiva in campo nazionale che riguardi gli orari di accesso a sale giochi e simili, tale da consentire applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Non approvati infine due emendamenti proposti, il primo da Carbonari e Liberati del Movimento 5 Stelle, ampliamento dell'elenco dei luoghi sensibili, il secondo da Mancini e Fiorini, LN, norme più stringenti sulle macchine da gioco, che equiparano il rinnovo del contratto di licenza alla nuova installazione.